Amici del soft libero e open source, benvenuti o bentornati in questa 129esima puntata del podcast di Marcosbox. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi le principali notizie del mondo del soft libero e open source. Questa sarà una puntata davvero striminzita perché, lo sapete, ormai agosto è alle spalle, sono periodi estivi, quelli delle vacanze in cui anche i programmatori decidono di mettersi in panciole e non lavorare, hanno anche ragione tutti quanti. E quindi ci sono state pochissime notizie dal mondo dell'informatica, del soft libero e quant'altro in queste settimane. Settembre ormai è iniziato, fra un mese vedremo due rilasci interessanti, vedremo una nuova versione di Ubuntu, Ubuntu 22.10, che introdurrà alcune cose davvero interessanti, come l'ultima versione di Gnome. Promette di avere prestazioni migliorate grazie al nuovo stack hardware, che poi vedremo che verrà backportato anche sull'ultima LTS. E dovrebbe, ma questo prendetelo con le pinze, visto che ormai le previsioni iniziali sono saltate, dovrebbe vedere alla luce una prima versione di test, della nuova versione di Cosmic Desktop, il Desktop Environment che equipaggia PopOS, la famosa derivata di Ubuntu prodotta da System76. Quindi, il nuovo fork scritto in Rust, anzi, il nuovo Desktop Environment, chiedo scusa, scritto in Rust, realizzato dai ragazzi di System76 per PopOS, doveva vedere una prima versione, un primo rilascio di testing ovviamente, quindi embrionale, durante i mesi estivi, però così non è stato, da quel che vedo, le cose sono andate un po' per lunghe. Spero, spero di portarvi, di avere buone notizie da parte dei sviluppatori di System76 e devi aggiornarvi anche sulle pagine del blog nelle prossime settimane. Quindi, ipotizzo, questo è soltanto un pensiero mio, che se la sono voluta prendere un po', diciamo così, un po' per le lunghe, in modo tale da rilasciare questa prima versione di Cosmic Desktop scritto in Rust, in concomitanza con il rilascio della nuova versione semestrale di Ubuntu. Ma queste sono soltanto ipotesi mie. Vabbè, iniziamo con le altre notizie delle settimane appena trascorse. Anzi, 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 prima di passare le notizie di queste settimane, fatemi fare un piccolo preambo riguardante Marcosbox, perché alcuni di voi mi hanno scritto, mi hanno chiesto come mai sono apparse più pubblicità su Marcosbox. Sto testando, se seguite il canale Telegram di Marcosbox, sapete già perché ho fatto l'annuncio qui, sto testando gli annunci automatici di Google AdSense. AdSense, sì, AdSense, e praticamente quando dai via libera a Google AdSense di mettere pubblicità, se la avete qui a mettere in quei posti che secondo lui sono quelli più remunerativi. Quindi è compasso quel banner che vedete nella versione mobile dall'alto e nella versione desktop dal basso, che vi mostra quella pubblicità. Sto cercando di capirci un po', di vedere se posso guadagnare qualcosa inserendo qualche banner pubblicitario all'interno del blog. Chi mi segue da diverso tempo sa che io lo rievo e lo metto, i banner pubblicitari di Google li rievo e li metto, perché io sono il primo che, non vi nascondo, utilizzo estensioni per i browser per bloccare la pubblicità, quella invadente. Però mi rendo conto che effettivamente la pubblicità è l'unico modo per poter, diciamo così, supportare gli autori, sopportare i creatori, sopportare tutti quanti i blog che dedicano del tempo per condividere la propria passione e magari cercare di supportare i costi vivi come l'hosting e quant'altro. Bene, dicevo, sto utilizzando gli annunci automatici di Google, che stanno mettendo pubblicità, all'inizio non ho riempito i blog di pubblicità in maniera invericonda, avendo messo pubblicità anche quando si cliccano sui link. Fortunatamente sono riuscito a capire come personalizzare gli annunci automatici, quindi cercare di limitare. Adesso appare un banner nella versione mobile in alto, con scorrimento dall'alto, nella versione desktop con scorrimento dal basso, con una pubblicità gigante. Sto cercando di capire se serve, se porta veramente qualche centesimo quel banner pubblicitario, perché dall'analisi di costi-benefici magari è capace che fra qualche settimana comincerò a vedere l'andamento delle entrate e deciderò, come ho fatto in passato, di togliere tutta la pubblicità, perché, come avevo detto prima, gli sono fatto così. Sto studiando, sto cercando di capire come funziona il mondo della pubblicità, come funzionano i banner pubblicitari, quali sono i modi per poter riuscire a guadagnare qualche centesimo da Google AdSense. E sto facendo esperimenti, quindi perdonatemi se il blog sta diventando, anzi, se è diventato in queste ultime settimane, un po' troppo, con pubblicità un po' troppo invasive. Sto studiando la cosa. Molto probabilmente tutto quello che sto facendo anche verrà gettato all'ortiche fra qualche settimana, perché avete visto, io ho cambiato il tema del blog da qualche mese, se non ricordo male che ho acquistato un nuovo tema. Però questo tema è soltanto un tema di transizione, perché io stavo aspettando la nuova versione del tema che avevo prima qualche, un annetto fa, il tema anime, che è realizzato da uno sviluppatore sudamericano, che è davvero bravissimo, doveva rilasciare la nuova versione del tema, perché c'erano qualche bug che non andava sistemato e quant'altro, comunque dovrei rilasciare la nuova versione del suo tema anime qualche mese fa, però anche lui se la sta prendendo a bella comola, la sta tirando con le lunghe, e forse è addirittura d'arrivo il nuovo tema, quindi preparatevi nelle prossime settimane, che probabilmente Marcosbox cambierà nuovamente veste, e quindi tutto questo studio delle pubblicità andrà a farsi benedire, perché cambierò il layout, e vabbè, sapete, mi piace sperimentare. Dopo aver parlato di nulla per tutti questi minuti, passiamo alle notizie pubblicate su Marcosbox. La prima riguarda una violazione che c'è stata in LastPass. LastPass è uno dei password manager più famosi a web, ed è stato violato. È stato nuovamente violato, perché questo era stato violato già qualche anno fa. La conferma è arrivata direttamente dal blog ufficiale dell'azienda, che ha risicurato gli utenti circa la sicurezza dei dati di tutti gli utenti paganti e non. Qualche settimana fa, Logmin, che è la società che realizza LastPass, che sviluppa LastPass, ha rilevato alcune attività insolite all'interno di porzioni dell'ambiente di sviluppo di LastPass, e dopo aver avviato un'indagine immediata, l'azienda non ha riscontrato alcuna prova che questo incidente coinvolgesse l'accesso ai dati dei clienti o i cavù del passo di criptografata. Però hanno rubato il codice soggetto, ed è una grave cosa. E come hanno violato LastPass? Beh, con il trucco più vecchio del mondo, ovvero hanno attaccato un singolo account di uno sviluppatore, hanno compromesso il suo account, e hanno prelevato le parti di codice e alcune informazioni tecniche proprietarie di LastPass. In risposta comunque all'incidente sono state messe in atto tutta una serie di misure di contenimento, mitigazione, ed è stata anche ingaggiata un'azienda leader nel settore della sicurezza informatica e dell'analisi forense per occuparsi del problema. Le indagini sono ancora in corso, nei prossimi mesi, nei prossimi settimane, sapremo che cosa è successo e soprattutto sapremo che diavolo si sono fregati. Magari scopriremo che si sono fregati anche dati sensibili, lo scopriremo, lo scopriremo non so malgrado. Passiamo adesso a Microsoft, che a volte ama Linux, a volte odia Linux. Microsoft si appresta a ritirare i client desktop di Microsoft Teams per Linux fra 90 giorni, e quindi ad inizio dicembre 2022. Il tutto verrà sostituito con una Progressive Web Apps. Stando alle dichiarazioni di Microsoft, questa scelta è dettata dalla volontà di offrire agli utenti Linux di Microsoft Teams funzionalità come, che ne so, gli effetti di sfondo, le reazioni, la visualizzazione delle gallerie, eccetera. Insomma, tutte le funzionalità che siamo già abituati a utilizzare su Windows, di poterle sfruttare anche su Linux. E a detta di Microsoft, il modo migliore per offrire tutto questo è quello di offrire Microsoft Teams per Linux come web app progressiva. La web app progressiva di Microsoft Teams arriverà quindi entro la fine dell'anno e consentirà a Microsoft di poter spedire le ultime funzionalità di Teams più velocemente e aiuterà quindi anche a coprire, come vi ho detto prima, a colmare alcune esistenti 3Ki e desktop di Teams su Linux e quello per Windows. C'è una cosa molto brutta che riguarda questa notizia, ovvero che la Progressive Web Apps di Microsoft Teams per Linux sarà compatibile soltanto con i browser Microsoft Edge e Google Chrome. Quindi, se siete utenti Firefox, resterete escusi e dovete non avrete tutte queste funzionalità perché sapete che Firefox non supporta appieno le Progressive Web Apps. Molti hanno commentato questa notizia come una cosa positiva perché a detta di molti funzionava male l'applicazione desktop per Linux e quindi già da tempo la gente andava di browser. Vedremo che cosa ne sarà con la nuova versione. Fatemi sapere se lo utilizzate e lasciate magari un commento. Restando in tema applicazioni, c'è una notizia che farà piacere a moltissimi di voi all'ascolto ed altri invece farà inalberare perché ci sono stati dei trascorsi poco piacevoli con di quello di cui vi sto per parlare. I manutentori di Debian hanno deciso di cambiare il motore di ricerca predefinito di Chromium da Google a DuckDuckGo. La decisione è stata presa a seguito di una segnalazione dei bug che è stata fatta tipo due anni fa. C'è stata una discussione e alla fine si è arrivati a questa scelta. Infatti ho fatto una battuta sul canale Terra, ma sono come gli Ent, quelli di Debian. Ci vuole tanto tempo per poter prendere una decisione. A proposito, avete visto gli anelli del potere le prime due puntate? Ha fatto schifo anche a voi? Non ditemi cosa ne pensate. Vabbè, aperta e chiusa parentesi tolkeniana. Tale modifica. Quindi il cambio del browser predefinito da Google, DuckDuckGo in Chromium su Debian Linux è già prodata con Chromium versione 104, quindi gli utenti Debian Testing e Unstable hanno già ricevuto il ragionamento, mentre gli utenti Debian Stable dovranno aspettare ancora un po' prima che la modifica approdi nei repositori stabili. La scelta di utilizzare DuckDuckGo come il motore di ricerca predefinito di Chromium anziché utilizzare Google è stata dettata dalla volontà dei manutentori della listro di aumentare la privacy degli utenti. Molti non saranno d'accordo con questa scelta perché DuckDuckGo ci sono state alcune cose poco chiare negli scorsi mesi per quanto riguarda il blocco dei siti Microsoft, delle pubblicità Microsoft, vabbè, andatevi a recuperare le vecchie puntate del podcast o a leggere gli articoli su Marcosbox. Io non ci vedo tanto male, perché alla fine le alternative sono davvero poche. Io l'appoggio questa decisione. E infine parliamo della famiglia di Ubuntu che adesso è diventata più numerosa grazie all'arrivo di un nuovo membro effettivo. Perché? Perché Ubuntu Unity è stata promossa al rango di flavors ufficiale di Ubuntu. Ubuntu Unity Remix lo conoscete. È il remix di Ubuntu con Unity come desktop environment che è stato portato avanti da uno sviluppatore indiano, 14 anni se non ricordo male, quindi un adolescente che ha dato nuova linfa, ha portato alcune modifiche dal fatto di rilasciare una versione nuova di Unity e ha rilasciato questa distribuzione, questa versione di Ubuntu basata, questo remix di Ubuntu basato su Unity per tutti quanti i nostalgici del vecchio desktop environment sviluppato da Canonical e ha fatto domanda di ammissione all'interno della famiglia di Ubuntu ed è stato concesso lo status di flavors ufficiale. Quindi adesso Ubuntu Unity, perde il remix, quindi diventa Ubuntu Unity, è un flavors ufficiale di Ubuntu e questo significa che godrà come redistro con sorelle, Kubuntu, Xubuntu, eccetera, di tutti quanti i benefici, quindi mirror, aggiornamenti, visibilità, eccetera, eccetera. Seguirà anche lo stesso programma di rilascio di Ubuntu e la prima versione come flavors ufficiale di Ubuntu Unity sarà Ubuntu Unity 22.10, cui il rilascio è previsto per il mese di ottobre. Non sono ancora state pubblicate le dighi, sto registrando questa puntata giorno 4 settembre, non mi sembra di aver visto ancora sui server ufficiali di Ubuntu, ma arriveranno a breve, stanno costruendo le immagini, quindi dovrebbe arrivare a breve su cdimage.ubuntu.com. Che dire, complimenti a questo secupatore che ha portato avanti questo progetto e complimenti a tutti quelli che l'hanno supportato e che hanno fatto realizzare questo miracolo, diciamo così. Voi la proverete? Siete anche voi dei nostalgici di Ubuntu Unity? Fatemi sapere con un commento. Ecco, questa ultima notizia si conclude qui, questa 129esima puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre vi ricordo che potete seguirmi sui vari social, quindi Facebook, Twitter, LinkedIn, con il mio profilo personale se volete seguirmi, siete ben accetti. Quindi trovate il canale Telegram dedicato alle notizie, trovate la community Telegram dedicata a voi, quindi potete scambiarvi opinioni, consigli, potete parlare di tutto, non è soltanto una community dedita al software libero, quindi il cazzeggio è libero e consentito. Trovate poi un canale dedicato alle offerte Telegram di Marcos Box, acquistando su Amazon utilizzando il mio codice referral Marcos Box-21 o acquistando direttamente dei link che propongo sul canale Telegram. Non sono sparmone, quindi propongo pochi link, quindi se volete seguirmi, non sono uno di quei canali che sta H24 a postare a ogni minima variazione di prezzo. Potete seguirmi, potete supportarmi acquistando su Amazon, diciamo, con il codice referral Marcos Box-21. Vi ricordo inoltre che trovate la possibilità di acquistare una VPN, delle tre principali VPN, quindi Surfshark, LordVPN e AddressVPN, potete acquistare utilizzando il mio codice referral che trovate sulle pagine Marcos Box, anche in questo caso, e potete supportare il blog. Da quando ho messo il banner, devo dire, nessuno mai ci ha acquistato VPN. Ci avete già tutti quanti VPN o utilizzate altri, anzi, fatemi sapere che cosa ne pensate al riguardo. Infine, vi ricordo, finito tutta la parte spammone, spottone, vi ricordo che potete seguire il podcast di Marcos Box, mi potete seguire non solo sulle pagine di Marcos Box, se mi state ascoltando su Marcos Box, ma sono presenti su Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast, Castbox, TuneIn, Amazon Music, Amazon Alexa, YouTube, potete seguirmi praticamente ovunque, quindi, Alexa Zitta, per piacere. Vi dico, come la chiami questa qua? Subito si prende libertà. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ciao ciao.